Buone notizie a Menfi per lavoratori e imprese del settore Dilema, soprattutto per i molti cittadini che ancora attendono la ricostruzione della prima casa a seguito dei danni subiti durante il terremoto del 68 nel Belice. Sono stati infatti sbloccati 2.264.000 euro di fondi della protezione civile per la ricostruzione e già da ieri il comune di Menfi ha avviato le procedure per liquidare le somme dovute alle ditte interessate a seguito dell'accreditamento presso la tesoreria del comune. Non è stato facile però, infatti, nonostante nulla osta ottenuto dopo l'incontro che il sindaco Marilena Mauceri aveva avuto il 2 luglio scorso a Palermo, nel corso del quale la regioneria generale della regione aveva annunciato che avrebbe proceduto immediatamente alla liquidazione della somma, successivamente il Dipartimento della protezione civile ha erroneamente indicato come destinatario del contributo il comune di Partanna anziché il comune di Menfi. Si è reso necessaria una seconda trasferta a Palermo da parte del sindaco Mauceri per far correggere l'errore materiale nel decreto regionale. Solamente nel mese di settembre l'assessorato regionale all'economia ha emesso un nuovo decreto con cui è stato dato seguito alla correzione materiale, un risultato che abbiamo perseguito e raggiunto, commenta oggi il sindaco di Menfi.